Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui su... come si chiama? Non mi ricordo mai... Metro 2033, ho appena scoperto che questo coso spegne il generatore qui. Però lasciamo l'acceso che è meglio, che è meglio. Allora, adesso dobbiamo ammazzare quei tizi là, che ce ne sono un sacco, diametro. Curati. Dai, 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 dai. Sono un camper. E quel tizio è un camper più di me. Mori. No! Tirata da cani. Morto da cani. Iniziamo bene a morire, intanto. Oh, mamma mia. Dove andiamo a finire? Ah, no, 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 no. Grandissimo respawn. Proprio respawn degni di... che ne so, Modern Warfare 3, diamine. Ah, curati, 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 curati. Grandissimi tiri proprio. Vabbè, dai, intanto noi ricarichiamo. No! Sei vivo? Ah, mamma mia. Sarà di... Eeeh, che cacchio di voi li fanno? Veramente non si capisce se sono vivi o morti. Eeeh, la, la. Diamine. Però non ho capito questa strada. Qual è? Che strada dobbiamo fare noi? Dobbiamo, in pratica... Non... Non dobbiamo fare tutti quanti pezzi. Tutti quanti... Non dobbiamo fare tutti quanti le tappe. Spero. Sono tantissime, diamine. Muori. Questo è peggio di un M4 Super 90, diamine. Ok. Siamo a posto? Bom, siamo a posto, spero. Prendi tutti quanti le munizioni. Oh, le. Eccoli là. Mi siete mancati, lo sapete. Grenade. Perfetto. E ora, pistola. Adoro la magnum nei giochi. Cioè, diamine. È troppo forte. Fai prendere le munizioni qua. Cambiamo. Eeeh. Ma sei vivo? No. Se hai il dispositivo di visione notturno, tieni premuto N, indossarlo per toglierlo. Qual è N? Diamine. Non vedo niente. Ho avuto la brillante idea di mettere al buio. Oh, là. Grandissimo. Ma da quando l'abbiamo preso sto qua? Ah, abbiamo anche la batteria. Perfetto. Troppo bello per essere... Vero. Però, allo stesso tempo, è bello finché è durato. Ma scusa, ma... Ah, sì, sì. Togli sto schifo. Toglilo. 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 Via, via, via. Non mi piace. C'ho la torcia. Anzi, ricarichiamo la torcia. Povera torcia. Tan, 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 tan. A posto. Via sto coso. Che ore sono. Eeeh. Andiamo. Oh, mamma mia. Aiuto, aiuto. Vediamo se riusciamo ad ammazz... No, non riusciamo. Riesco a vederlo. Sì. La bagna non dovrebbe essere un'arma precisissima, ma invece... Vediamo se col nostro AK riusciamo a fare qualcosa. Ja. Riusciamo. Headshot. E abbiamo finito anche i colpi. Perfetto. Modo per far fuori quella gente, se non sbaglio. Che bel coltello. No. Ah, qui, qui. Vediamo se ci sono munizioni. No. Non ci sono... Ah. Qua c'è un'altra K. Ok. Un co... Quattro colpi. Ok. Non capisco perché la gente si... Proprio si ostina a mettere quattro colpi su un caricatore. Contenti loro. Dovono ricaricare ogni quattro colpi. Andiamo un po' più avanti. Andiamo un po' più avanti. Cambiamo copertura. Sei bellissimo, lo sai? Allora. Ehm. Ok. Ti ho colpito in faccia, diamine. Dai. No. Oh, ti beccherò, no? Da qui. Vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. Hai paura di morire. Non ti preoccupare. Tanto tutti dobbiamo morire. Non ti preoccupare. Ok. Adesso. Bravo. Eh, cambiato copertura. Complimenti. Andiamo di qua. Vediamo. Qualche... Qualche munizione per la K. Così possiamo ammazzarlo prima. E' meglio. Ok. E' meglio. Qui non c'è niente? Ok. Vengo a prenderti allora. Visto che non vuoi... Sì, ma quello è deficiente. Continua a cambiare copertura. C'ha anche un K. Un K. Un K. C'ha un... Un... Ah, come si dice? Un fucile a pompa. Ah, ecco cosa c'avevano. C'avevano i mitraglioni. Fa' vedere. Guarda che roba. Cioè, cos'è quelli... Perché qua tutto ha delle valvole, ha tutto... Delle valvole. Ah, ah. Perché qua c'ha tutto... Ma, non so. Medikit. Ok, siamo posti. Mi servirà un cecchino. Ecco, devo prendermi il BSS. Diamine. Oppure un mirino per la K. Ecco, lo sapevo. Gli acquisti non fatti si fanno sentire. Andiamo. Tra l'altro, sono sicuro che devo andare da sta parte. No, devo andare indietro. Oh, mamma mia. Continuo a ignorare la mappa. No, la mappa. La bussola. Dannata bussola. Allora, andiamo di qua. Eh. Boh. Andò bel po' che non vedi i mostri. E sono contento di ciò. Adesso scommetto che appa... Eeeh. Ciao. What? Eeeh, a carioletta. Ah, mamma mia. Forse sono più contento di vedere i mostri. Almeno quelli non sparano. No, dietro di... Oh, merda! Mori, 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 mori. Mori, mori. Mori, 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 mori. Mori, 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 mori. Cura, 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 cura. muori mori sei sp remari morì uomori cura 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 puro ora puro ora corri via ripara Arabiandiparicima cura 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 pura com a prova dopo riparare di padre riparare riparare ripare ripari ripari per capire No, come da qui Diamine Non mi ammazzerai Devo prima finire un colto di sospeso Con una macchinita di merda Ecco cosa si ottiene a prendere Per i fondelli Una macchinetta Fatta male Ah, porca miseria Vieni qui dai, vieni qui Che sei morto Morto? Quattro colpi ti basta, noia Oh mamma mia Magari fosse così facile Far prendere fuoco Una dannata miccia Che non sai mai quando Quando prende fuoco Allora Sono morti? Caricati vita Carichiamo un po' Mi chiedo se Se avessi disattivato il generatore qui La luce non ci sarebbe stata Quindi In pratica Non mi avrebbe Cioè farebbero Avrebbero fatto più fatica a vedermi Credo Poi boh Allora vediamo Ok Riusciamo ad andare Sì Corri, corri Adesso arriva Macchinetta Prendiamo le munizioni Pieno munizioni Possibili E io devo andare Dritto di qua Perfetto Arriva sempre in ritardo Maledetta Ok Mi chiedo come faccia a girarsi Poi però Vabbè Affari loro A me è soltanto interesse Uccidere E uccidere E uccidere Ma non c'è nessuno Ah eccolo là No sto tornando a macchinetta Ah no 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 Mi ho trovato Mi ho trovato Mi ho trovato Mi ho trovato E io Eh 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 Ma non si può uccidere Cosa devo farci con quella macchina lì Ho provato a tirarvi addosso qualche granata Questo spawn point è troppo Overpowered per loro Ma diametro ma non muoiono Ok E non è neanche ancora morto Non è che magari sia un mental Ah perchè usiamo le munizioni di schifo Ma io non vado ad usare le munizioni buone Ok dai Prendiamo un po' di munizioni E la la Ok Spero di averli sistemati no Ok Preferivo fare sta parte in stealth Stilt Come cavolo si dice Non lo so Andiamo avanti dai Qua c'era un fucile a pompa No Ok Qui adesso arriva la macchinetta E Eccola Via E il problema è che non so come ucciderla Proviamo a seguirla Proviamo a seguirla stavolta Eh vabbè il tiri monkey di sto tizio Non sa tirare una dannata granata Ok Ora possiamo affrontarlo in santa pace Questo Ah e va via Adesso seguiamolo Dato che l'ho danneggiato seguendolo Andiamo avanti Seguiamolo Salvataggio Eh vai Non c'è un modo per aumentare la precisione di quella dannata arma Eh dai Ma quanti sono Vediamo un po' Eh questo qua è un scout proprio Velocità 10% in più rispetto a tutti gli altri Vita Uguale a quella del Levi Cioè Ok La visione notturna è la cosa più inutile perché Ti restringe il campo visivo E' inutile perché c'hai già una torcia che fa abbastanza luce E E c'ha le batterie quindi Potevano anche non aggiungerla Tra l'altro le batterie dove le trovo? Hmm Un altro mistero da scoprire Ma prima scopriamo da dove mi sparano Eccolo là Corri via Fai bene Mani in alto Mani in alto cosa? Allora Tra l'altro Eh la la Curiamoci ancora Ok Ricarichiamo Andiamo in ricarica Troppo veloce Per essere un'arma così forte Via Vediamo Ci abbiamo qualche Sì Non so perché Ma continuano Ad avere che ne so Sette munizioni E' da un sacco che non ho un caricatore pieno di AK Continua ad avere Quattro Cinque munizioni Com'è fatto a non vederti? Ok Granata Quante granate c'ho? Si può vedere Uccisi? Yeah Finalmente ho ucciso qualcuno con una granata Abbiamo dei feriti Uovo a terra Eccolo lì Vieni fuori Maledetto Andiamo Nella torcia inizia a non fare più luce Cazzo Perdiamo uomini A terra Strazzo Ok Eri l'ultimo Dimmi che eri l'ultimo Dai dimmi che L'ha detto Ok No ce n'è un altro Perché hanno detto Che stanno perdendo Che stanno perdendo uomini Vediamo Tra l'altro Dove devo andare? Che forse mi sono perso da un secolo Devo andare sopra Giù Su Destra Sinistra Boh Ok Via Su Ah no 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 Che schifo che schifo che schifo Mori mori ma spara Ok Per un attimo credevo Che Sarai morto di nuovo Ehi ma Lì ce n'è uno vivo Chi cavolo è Chi sei? Grazie compagno Ho sentito che c'era un ranger da queste parti E non mi avete dato una mano? Non ti farò domande sulla tua missione qui Ci raggrupperemo E ripiegheremo È stato un onore conoscerti Grazie ancora Ma non ti ho neanche parlato Va bene ok Lasciamo stare Io ho bisogno di munizioni Più che altro La prossima volta che andiamo in una città Abitata Piena di munizioni E Roba del genere Devo assolutamente Spendere tutti quanti i soldi lì O altrimenti posso usare le munizioni di riserva Che ne ho un sacco di queste munizioni Non vorrei sprecarle ma È l'unica cosa che posso fare Assaggia queste munizioni pre esplosione caro Tre colpi Ok cambiamole di nuovo Non ci ho voglia di spendere tutti quanti i colpi Perché sono belle e rare In pratica è come sparare soldi Sparare soldi Che gran bella invenzione Devo andare di qua? Ok Di qua Non cambia mai il livello Diamine C Per Comunismo Parte una musichetta intanto Vediamo qui No 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 Ehi Io ho le armi eh Non Ok E così morì Finita la storia Qualcuno può darmi una pillola per suicidarmi Così almeno cerco di Oh mamma mia Spariamo questa spia rossa Sono rosso sì No adesso inizio a prendere colore Non dovremmo chiamare la Gestapo Gestapo Impiegheranno una vita ad arrivare qui dall'impero Chi sorveglierà questo maiale per tutto questo tempo Non ho fatto niente Sto soltanto cercando di andare in superficie Ciao Eeeh Dai Cosa Ehi la dietro Ciao Cosa devo abbassarmi Ok Abbassati Scemo Abbassati Continuo a guardare Sei morto Lo sai Non ti preoccupare Anche la vostra potrebbe essere rapida Occhio Occhio Olè LOL Scena epica Oddio Chi siete? Sono sempre a lungo Prima di premere il grilletto Hai ragione Non sparano mai Adesso basta guardarmi così Una borraccia Cioè Non potete dare che ne so un'arma Qualcosa Visto che le ho perse tutte No Ti sei debitore ragazzo Non sembri uno dei rossi Chi diavolo sei? Questo è il simbolo di Atter Meglio che ti parti da mille Qualunque messaggio tu abbia Lo darei a lui Conoscono Hunter Siamo presi bene Allora Oh C'ha di nuovo le armi Andiamo alla vettura blindata Che bello Oh La revolver è silenziata Bene Prendiamo questa Vettura blindata Oh mio dio Abbiamo una vettura blindata Blindata Miller Miller Sbaglia E quel tizio La Sbaglio Miller è quel tizio Che è morto Ingiustamente Su Battlefield 3 Povero Miller Allora No Cioè Vuol dire che stiamo Per raggiungere La polis La polis O come cavolo Si chiama Ciao Tizio di Counter Strike Ciao Tizio di Counter Strike Allora Dunque Ah questa è la vettura blindata Che non riuscivo a distruggere Nella torretta Sarà più difficile Vederti Spero che tu sappia Come funziona Una mitragliatrice Certo che No Non so Beh ragazzi Buona fortuna a voi Ok Grazie per avermi salvato E per avermi dato Una borraccia inutile ID per la Per ruotare la torretta Tipo un caro armato Diamine Senza fare rumore Proprio difficile Con un mitraglione Del genere Ok Ora Dobbiamo Cambiare Ok Non è molto bello Avere delle vetture Proprio fatte così Che vanno soltanto Nelle rotaie Possono bloccarle In un attimo Diamine Tipo qui Ecco Siamo bloccati Se avessimo avuto Che ne so Un triciclo Uh C'è anche il clacson Mi avete sentito? Ok Veloci Non abbiamo molto tempo Posso anche mirare Un'altra vettura blindata Posso sparare? Posso sparare? Ehi Io ti conosco Tipica frase Di una guardia Che vi ha Diciamo Che vi ha riconosciuto Su Skyrim Questo veicolo Non è previsto Nel piano trasporto È vero Ecco Siamo stati inviati Al posto di blocco avanzato Signore Per consegnare munizioni Munizioni Sì Munizioni Non ho ricevuto le munizioni Chi siete? Alzate la schiera Ci hanno preso Ah esplodono Sparandogli Ok Ecco qui c'è la musica Dietro Da dove appaiono? Scusa Velace Spara 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 come volo È volato via l'omino Vuoi morire? No dai Ti lascio in vita No ti uccido Ti uccido Eh ma non è giusto Io non riuscivo a colpirli Quelli dentro la torretta E non ho capito Cosa sia quell'indicatore Ah sarà la percentuale Di surriscaldamento Dell'arma Ok Allora devo lasciarla raffreddare Vai eh Basta che acceleri Sì Grande Mi è finito un pezzo dentro Davanti? Davvero? Ok 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 Non ti preoccupare Siamo salvi Oh no Non posso neanche curarmi Dai Dai Esplodi Queste esplosioni Sono familiari Mi pare Mi sembrano quelle Della TNT di crash Ok Abbiamo passato Le linee Difense Un panzer Qua dentro Oh mio dio Cosa ci fa un caro armato Qua dentro Siete spacciati Scusate Loro avranno i caro armati Noi abbiamo i tricicli Complimenti No 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 Andiamo A sinistra A sinistra Dietro Oh no Come facciamo a battere un carro? Nemico alle spalle Come facciamo a battere un carro? Ah Adesso si è trasformato In una macchinetta Complimenti Una limousine Verticale Esplodi Merda Se si è riscaldata L'arma Dai Ok No Wow C'è entrata una macchina dentro C'è entrata una macchina dentro Oh mamma mia Dove siamo? Bulldozer È una specie di boss No Si è inceppata la macchina Oh merda Oh merda Quali sostegni? Fatto Addio Finché 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 si possano far fuori Così facilmente I carri Sono inutili Ok E ora Perché c'è il terremoto? No Cosa sta succedendo adesso? Niente Caricamento Ah no Andiamo avanti a piedi Perché c'è una dannata porta Non dirvi che dobbiamo battere adesso i mostriciattoli Oh merda E allora Ah devo entrare? Grazie eh Prima le signore No Come Wow Cosa sono sti tizi? Sì 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 Hanno ragione So parlare il Spentese Allora Qui cosa c'è? E diamo Ok Perché dobbiamo sbrigarci? Qua ci sono un sacco di munizioni Ok Cos'è questo? Uno Skell Ops Scusa Uh Qua dentro Ah no Sono scintille Sono scintille Rosseggia Acce Aspa Apri chi? Ok Non si apre Ah non possono entrare gli uomini con le pistole Allora col coltello Sì Ehi Sono col coltello Ok lascia stare Possiamo salire? No Carichiamo sto schifo Andiamo di qua Oh un'altra macchinetta E si carica di nuovo Perfetto Deposito vagoni Dopo lo scontro a fuoco con i carrelli degli imperialisti Sembrava che avremmo avuto la strada spianata Ancora una volta Mi sbagliavo Eeeh Poveri noi Quanto mancherà Polis? Non si sa Ci siamo quasi Bullman dovrebbe essere in attesa alla stazione nera Ok Ma io sto però qui la parte Se volete vedere Eeeh Maledetti Dovevano proprio costruire tutta questa nobaccia Fai attenzione se non vuoi farti stendere O stai giù o spari Ok se volete andare a vedere Se volete È un posto spettrale Sì Stai sempre in guardia in queste gallerie Se mi Se mi vorre Sì sì Sta zitto Se mi volete vedere In pratica spiaccicare Spiaccicarmi la faccia Addosso a quei tubi Troppo Troppo bassi Guardatevi la prossima parte Noi ci vediamo la prossima Ciao E alla prossima No Non posso stoppare Ora posso stoppare Noi ci vediamo la prossima Ciao E alla prossima Ciao